Svolta nell'omicidio di Via della Robbia c'è infatti un uomo in carcere per la morte di Maria Venasio de Sousa, la 60enne brasiliana ritrovata lo scorso 26 agosto senza vita all'interno del suo appartamento con tre colpi alla testa e un laccio ancora stretto al collo. Si tratterebbe di un 37enne italiano cliente della donna. L'uomo avrebbe confessato il delitto al termine di un interrogatorio fiume in questura andato avanti per ore di fronte al PM Chiara Pistolesi, titolare dell'inchiesta. Una svolta dunque è arrivata dopo giorni di indagini serrate basate su tabulati telefonici della donna e immagini delle telecamere di videosorveglianza. La squadra mobile di Arezzo guidata da Francesco Morselli è così riuscita ad inchiodare il presunto assassino. Il movente del delitto sarebbe riconducibile a motivi economici. Di chi si tratta? Non posso dire nulla. Domani conferenza stampa, balla procuratore. Come l'avete individuato? È stato complesso ma ce l'abbiamo fatta. È un cliente. Non posso dirvi nulla, abbiate pazienza, domani avrete tutto. Nella serata è arrivato il fermo dell'uomo e il trasferimento nel carcere a Retino di San Benedetto. Nei prossimi giorni la convalida dell'arresto di fronte al GIP.